Fare impresa significa scommettere nello Stato e combattere insieme per prevenire e reprimere l'abusivismo e la contraffazione a favore della concorrenza leale. Così il sottosegretario all'interno Gian Piero Bocci che si è recato in prefettura a Pesaro per sottoscrivere il protocollo d'intesa per la legalità e la sicurezza delle imprese. Un documento che è stato firmato insieme al perfetto Luigi Pizzi e ai presidenti provinciali della Confcommercio Imprese per l'Italia, Confesercenti e del direttore territoriale del lavoro. Nell'economia significa portare alla luce le imprese sane, quelle che rispettano le leggi, significa affermare il primato delle regole, ma soprattutto è una pregiudiziale necessaria per far fare al sistema dell'economia e delle imprese un salto di qualità. Ci troviamo in una provincia dove ci sono delle condizioni buone rispetto al resto del paese. Pesaro, la provincia, la città, il territorio hanno tutte le condizioni per dire di vivere in un contesto di grande sicurezza. L'accordo comprende un vademecum antirappina e opuscoli in materia ambientale, corsi di formazione imprenditoriale e una sensibilizzazione degli operatori economici a incentivare l'installazione di impianti di videosorveglianza o di altri sistemi di sicurezza di nuova tecnologia che consentano di contattare immediatamente le forze di polizia per un intervento sempre più tempestivo. Questo risultato, ha detto il prefetto Pizzi, può essere raggiunto solo grazie ad una collaborazione tra le istituzioni pubbliche e private del territorio. Soprattutto per quanto riguarda l'usura, la difficoltà maggiore è quella della emersione, stante la nota, purtroppo, complicità tra la vittima e l'autore del reato, il che rende sempre difficilissimo l'individuazione del reato stesso e la punizione dei responsabili. Però devo dire che, per quanto riguarda la provincia di Sveso Urbino, questi fenomeni non si sono evidenziati, mentre è importante soprattutto l'azione di prevenzione della contraffazione e la tutela dell'ambiente.